Bilancio di previsione, tutto pronto quasi per l'approvazione dello strumento finanziario a Ragusa. Cimeli della seconda guerra mondiale, un atto di indirizzo per far riscoprire bunker e case matte. Si attendono le ultime indicazioni della commissione consigliare per stilare il bilancio preventivo che sarà discusso in Consiglio Comunale a Ragusa lunedì prossimo. Sì, oggi abbiamo riunito la commissione risorse per la seconda volta per parlare del bilancio del rendiconto 2015, così come predisposto all'amministrazione. Abbiamo avuto modo di ricevere risposte ai rilevi posti sia all'amministrazione che al Collegio dei Revisori, in merito ad alcune poste, così come spiegate nella relazione dell'amministrazione. Ci siamo riservati un'ulteriore seduta che dovrebbe avvenire giovedì, attendiamo semplicemente la convocazione, per fare quadrato e avere chiarite quelli che sono gli ultimi elementi ed avere linearità su quello che è il bilancio consuntivo, così come è redatto dall'amministrazione. Il tutto per permettere lunedì, magari daremo mandato al Presidente del Consiglio, di convocare la seduta utile per il Consiglio Comunale, di approvare il rendiconto ed evitare così il commissariamento da parte della Regione sull'atto. Quali sono in atto le difficoltà in questo momento? In questo momento sono stati verificati tutti gli equilibri, la relazione dei Revisori era particolare perché ha seguito un modello diverso rispetto a quello degli altri anni. Quello che emerge è sicuramente uno stralcio dei crediti IMU e dei crediti sull'idrico e questo ha fatto sicuramente abbassare l'avanzo dell'amministrazione, però ha reso finalmente chiaro e reale quella che è la situazione dell'ente. Sarà il commissario inviato da Palermo ad approvare entro 30 giorni il bilancio di previsione al Comune di Santa Croce. Il Consiglio Comunale, nella seduta di ieri sera, non ha approvato lo strumento finanziario. Sei voti favorevoli, sei contrari. Adesso si riparte dallo schema di bilancio approvato dall'Aggiunte Urato, con gli emendamenti di fatto azzerati, poco meno di 16 milioni di euro, di cui 8 milioni di spesa corrente e 1 milione e 900 mila euro di investimenti in fondo capitale. Ma non sono mancati in aula aspre polemiche in merito a muti contratti della precedente amministrazione. L'ex sindaco Lucio Schembari non li manda, di certo a dire. Sì, mi sono trovato per caso, come libero cittadino, ad assistere al canto del cigno dell'amministrazione Urato stasera senza maggioranza, dopo che è partita con 10 consigliere contro 5 della minoranza, è arrivato oramai senza maggioranza. E ho sentito veramente delle cose incredibili da parte della sindaca Urato, dove si sostenevano i mutui passati, i mutui che avevano fatto le passate amministrazioni, compresa quelle fatte dai suoi due attuali assessori, quindi critica evidentemente anche i mutui che hanno realizzato parte della sua giunta comunale. Quindi dovrebbe quantomeno allontanare questi assessori che hanno fatto questi mutui inutili secondo forse la sindaca. Per quanto riguarda i nostri mutui, sono stati realizzati su circa 50 milioni di euro di opere che si possono, io ho fatto un elenco, un libretto alla fine della mia amministrazione, si possono andare a controllare. Sono opere realizzate con finanziamenti pubblici, attraverso altri enti tipo fondi ex-insicem, tipo provincia regionale, tipo IACP, tipo assessorato regionale ai lavori pubblici, tipo assessorato regionale all'agricoltura, cioè tutti i fondi esterni al bilancio e su circa 50 milioni di euro di opere abbiamo realizzato un milione di euro di mutui. Questi mutui riguardano un muro di contenimento dove stava crollando un intero quartiere, quindi abbiamo salvato un intero quartiere, una rotatoria dove c'erano stati tanti incidenti stradali all'entrata di Punta Braccetto e un cofinanziamento di 500 mila euro dove sono stati realizzati tutti i marciapiedi, 5 chilometri di marciapiedi del centro storico, tutte fatte con gli scivoli per i disabili. Abbiamo messo in sicurezza tante zone del centro storico di Santa Croce oramai in una situazione proprio senza marciapiedi e poi 100 mila euro, 90 mila euro per pavimentazione di strada del paese. Ora ditemi voi se questi qua sono mutui, inutili o che non ci volevano. Su 50 milioni di euro, un milione, un milione e cento mila euro di mutui, su zero di opere pubbliche, un milione di euro di mutui. Non c'è partita, signori cittadini di Santa Croce, non c'è partita, non si può andare in Consiglio Comunale a prendere in giro i cittadini. Per quanto riguarda le opere del fotovoltaico, ci troviamo qui di fronte a un'opera realizzata con le opere di compensazione del fotovoltaico, la legge ci ha permesso di utilizzare dei fondi delle ditte che realizzavano gli impianti fotovoltaici. In quel periodo abbiamo fatto una contrattazione alla morte con le ditte, abbiamo ottenuto più che abbiamo potuto e abbiamo realizzato. La fontana tricolore che stasera abbiamo sentito che è stata realizzata con un mutuo non è vero, dico nel falso, sono state realizzate con opere di compensazione. Il municipio, il campo sportivo è stato tutto rivalutato, è stata fatta la tribuna coperta, le entrate della città sono state tutte rivalutate e sono stati utilizzati in modo centellinato questi fondi per dare un aspetto migliore a Santa Croce e Camerina. Quindi non si può cercare di camuffare le proprie debolezze, la propria incompetenza, la propria inefficienza, la propria sterilità. Questa è un'amministrazione sterile che non ha prodotto niente per Santa Croce. Si sono persi cinque anni inutilmente e ora ci vengono a parlare ancora di un milione di euro di uteri. Non si è pensato alla raccolta differenziata, eravamo arrivati al 39% e sono arrivato al 3%. Mi dicono delle gare, io non le seguo più queste cose, ma mi dicono che c'è una gara ancora che è stata fatta per sei mesi e poi devono dare forse ancora la propria. Quindi si fa, l'ordinaria amministrazione è fatta malissimo, no male. Si lamentano tutti i cittadini e ancora stasera ci si difende andando a prendere chi c'è stato cinque anni fa. Questo è proprio il sintomo di una debolezza interna. Quando non si hanno argomenti si cerca di aggrapparsi al passato. Ma attenzione perché il passato può sempre ritornare di nuovo, attenzione. Cimeli della Seconda Guerra Mondiale, un atto di indirizzo per far riscoprire bunker e case matte. Come sappiamo in città sono presenti numerose associazioni, una delle più importanti sappiamo è Lambadoria che da tempo si occupa della valorizzazione di questi cimeli, non parliamo soltanto di oggettistica ma anche di cimeli presenti nella città. Come sappiamo ultimamente l'amministrazione ha fatto ripulire le due trincee che ci sono vicino alla pista ciclabile e so che a breve verranno messe delle tabelle per indicarle. Il 10 luglio domenica ci sarà l'inaugurazione con Lambadoria sempre in contrada Camemi. Inoltre questo atto di indirizzo in realtà a cosa serve? Serve a far sì che l'amministrazione possa fare una convenzione appunto tra queste associazioni, tra i privati che hanno negli anni raccolto questi cimeli e poterli rendere fruibili possibilmente anche in una unica soluzione. Noi sappiamo pure che la soprintendenza ha riconosciuto la collezione presente presso l'Associazione Nazionale dei Combattenti e Reduci a Ragusa in Piazza Libertà. Questa è un'altra possibilità per poter fare una convenzione, così come il già presente Museo Civico L'Italia in Africa, ecco tutte queste realtà potrebbero essere unite in un'unica grande realtà per poter rendere fruibili realmente questi cimeli. Una serata di gala per l'Associazione Pro Madagascar, una raccolta fondi in occasione della serata di gala a Villa Criscione in programma domenica 17 luglio con inizio alle ore 21. Anche quest'anno da circa 14 anni ci muoviamo per una bellissima serata per la costruzione di questo grande ospedale in Madagascar esattamente a Marovai e speriamo di avervi numerosi. come a Sordio ci sarà, leggiamo qui il biglietto, la serata di gala, quindi il concetto sarà splendido, ci saranno i migliori artisti del gruppo e speriamo di avervi sempre in tanti tanti perché la serata sarà molto bella e sempre all'insegna dell'amore e della solidarietà. Ma ora stiamo lavorando esclusivamente sulla costruzione di questo grandissimo ospedale e quindi come immaginate l'ospedale non è esattamente a Marovai, a Madagascar, la città diciamo importante accanto alla nostra missione. Essendo molto grande a più piani occorrerà realizzarlo in parecchi anni. Per fortuna non siamo solo noi del Ragusa, naturalmente c'è il Nord che ci aiuta molto, che manda molto materiale, pavimenti, infisse e quindi riusciamo piano piano ad andare avanti. Siamo già al primo piano inoltrato, occorrerà il tempo che occorrerà, questo è indubbio, però a poco a poco stiamo realizzando un'opera effettivamente grandiosa. Razionalizzare le spese e fare confluire in poche sedi tutti i servizi dell'assessorato regionale all'agricoltura. Tanti buoni propositi che troppo spesso si scontrano con la realtà di una macchina troppo farraginosa. Così la sede dell'ex SOAT 35 di Santa Croce di proprietà della regione Sicilia, senza alcun costo di affitto, viene chiusa e i servizi trasferiti a Vittori in un ufficio in affitto. Stessa sorte ammodica con l'ex condotta agraria chiusa e i servizi trasferiti a Scicli. Infine ispica con la condotta agraria accorpata con l'Asca. E una storia inverosimile, racconta Giuseppe Virdieri, ex dirigente della SOAT numero 35, frutto di scelte assurde e cervellotiche. Chiudere una sede di proprietà in una zona baricentrica come Santa Croce vuol dire creare ulteriore disagio ad un comparto come quell'agricolo già duramente provato. Un iter lungo e farraginoso, quella della SOAT di Santa Croce, con una convenzione tra il comune e la regione, poi il successivo passaggio di consegna alla regione. Adesso la SOAT 35 ha chiuso i battenti. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!